Bella a tutti ragazzi, sono Aaron e come potete vedere dalla visuale si capisce che siamo su GTA 5 per PC E niente, siamo qui, dobbiamo fare un po' di casino in prima persona Forza, forza, mamma mia, prima persona incredibile Andiamo a fottigli l'auto, andiamo a fottigli l'auto, corri, corri, corri Giù, giù, guardate, guardate come sale bene, vetro spaccato, tiriamo fuori il mitra Mamma mia, dal cruscotto, ammazziamo tutti col mitra, sgambetto, anche quello, fantastico Via così, attenzione questo fa inversione, noi abbiamo i guanti da CSI, abbiamo indossato i guanti di CSI Mamma mia, che controsterzata, entriamo in tangenziali in autostrada, come cazzo si chiama il contrario Oh mio Dio, perfetto, perfetto, la gente ci starà smadonnando contro, ma non fa niente Mio Dio, in prima persona contro mano Ok, siamo rientrati nella nostra corsia, allora io direi di fare un'attività casuale E vediamo cosa salta fuori Bene, bene, eccoci qua Faremo questa missione casuale, ho avviato una missione casuale e lo faremo tutto in prima persona Eccoci qua ragazzi Allora, tiriamo il nostro veicolo tutto in prima persona ragazzi, scavalca la barricata Oh mio Dio Barricata Ok Dobbiamo far sì che il nostro compagno scatti le foto Sì però, allora, o gli devo stare dietro o non lo so Vediamo, vediamo Uh, sfiro l'albero, sfiro l'albero incredibile Attenzione, frena Ok, il mio compagno era l'altro in verità Quello blu che sta da solo Dobbiamo andarlo a prendere Ahia, frena, frena Porca vacca, ho preso il palo Mi sono schiantato, mi sono schiantato ma Sono ancora in vita Dov'è la moto? Ok ragazzi, siamo sotto il tunnel Guardate che roba in prima persona Sto scorrazzando Nelle strade americane Oh mio Dio Eccolo Oh Falciato Oh mio Dio Non si capisce un cazzo Se dovessi guidare così Nella realtà Sarebbe un bel casino Sì ragazzi, noi in teoria dovremmo Dare una mano a questo Ma praticamente stiamo cazzeggiando Con la visuale in prima persona Eccoci qua arrivati ragazzi Praticamente io in questa missione Non ho fatto un cazzo Ci sono anche tolti il casco Ok ragazzi, siamo su Crocch Rockets Watch Rockets Voilà E vediamo intanto se un po' di gente entra Poi ci vediamo in partita È una mappa muddata Proveremo Proveremo A farci sta mappetta Ok ragazzi, eccoci qua Siamo solo in tre L'ho fatta in tre perché Perché non entrava più gente Quindi vabbè Facciamolo in tre Non cambia nulla Ci divertiremo lo stesso Attenzione Tre Vediamo Due Uno E go Cazzo In prima persona ragazzi Questo è un po' impossibile Olè No Ok Un casino Un casino Un casino Ok sulla rampa Perfetto Minchia Queste visuali qua Un casino ragazzi Perfetto Anche su sta rampa Ok ok Tarella Tarella Che ce l'abbiamo dietro Tarella Tarella Come non mai Fum Bravissimo Bravissimo Madonna Ok Ok c'è anche venuto addosso Il bastardo Ma noi siamo Forti E resistiamo Alle botte Alle botte Ok ragazzi Gesem Gesem Ultimo giro Mamma mia Questa ce la facciamo Così Vale Chiudila benissimo Impiega Impiega Qua in mezzo al fogliame Perfetto Impiega E si va a concludere Ragazzi Vittoriosi Via così Pronto 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 Vasi Chiamaterla Pronto Risponde Aaron Hunter Sono qui Eccoci qua Patanz Ok ragazzi Direi che per oggi è tutto Se il video vi è piaciuto Vi è sentito lasciare un bel mi piace Iscrivetevi al canale E Ci salutiamo In mezzo ai vestiti Da 10 dollari 8.99 2 per 15 dollari Adios Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti